baruga e tani si sarebbe fidanzato ma questa volta le yeru dovranno mettersi il cuore in pace perché la fortunata non sarebbe jessica ilesse lassie ma un'altra ex vippona del grande fratello sonia lorenzini a raccontarlo è stata deianira marzano ospite a radio martedà gabriele parpiglia sottolineando come si vocifera un flirt fra sonia lorenzini che in questi giorni è stata a casa di barù in toscana un rumor che i due diretti interessati non hanno commentato confermando di fatto l'indiscrezione qualche mese fa baruga e tani ha confessato di essere pronto ad avere una relazione seria ma il problema è che ogni volta che si frequenta con qualche ragazza le yeru invadenti non prendono bene la notizia e scrivono cose brutte sia a lui che alla lei di turno vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro rompono i co asterisco asterisco ioni ogni volta che parlo con qualcuna e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mera parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa basta siete ridicoli seguitemi pure ma cambiate nomi a certi account nome avete rotto sono passati quanti mesi basta non se ne può più ridicoli ha continuato barù ma poi c'è addirittura chi scrive ai miei familiari e ai miei amici gli mandano dei messaggi assurdi e gli rompono le scatole ma questo vi sembra normale non ne posso più è una roba che non dovrebbe esistere siete degli stalker e non state affatto bene vi sembra una cosa normale o giusta scrivete ai miei amici che magari neanche conosco bene che sia questo il motivo per cui sonia lorenzini la tenuta nascosta per proteggerla dalle geruline